Un antipasto dell'esibizione fieristica che si terrà tra l'8 e il 10 aprile. A partire dal 24 febbraio, Lungarone Fiere Dolomiti ospiterà ricostruire virtual, un ciclo di eventi online che si inserisce nel contesto europeo delle EU Industry Weeks, ovvero le settimane dell'industria che la Commissione Europea dedica al dialogo col sistema industriale. Lo dice il verbo ricostruire, non è costruire, non è nuovo cemento, ma è evitare il nuovo cemento attraverso la sistemazione, rinnovamento, ristrutturazione di quello che è all'esistente, in un'ottica ovviamente che segue le normative europee e quindi anche nazionali di ambiente. Quindi il sistema dell'edilizia, il sistema di tutte le costruzioni che deve avvenire in un'ottica non più di riduzione degli spazi del territorio nei confronti dell'agricoltura, ma razionalizzazione e soprattutto sano utilizzo e soprattutto risparmio di energia in un contesto diciamo più amichevole nei confronti dell'ambiente. E anche per questo a Lungarone si è deciso di provare a cogliere un'opportunità, quella dello scambio di idee ed esperienze tra aziende. Si è trattato di un bando che è stato pubblicato a novembre, al quale bisognava rispondere portando degli esempi costruttivi, degli esempi di migliori pratiche nel settore appunto aziendale, collegato al tema dell'ambiente, ma anche al tema del digitale. E' tenuto conto che uno dei progetti che proprio noi abbiamo presentato e vinto è anche quello che si chiama Digitour, per il quale fra poco ci sarà anche la presentazione, il cosiddetto incontro d'avvio, ed è un progetto che vuole portare una maggiore digitalizzazione nell'ambito delle aziende del turismo. Abbiamo pensato che ampliare il tema della digitalizzazione a tutti i settori produttivi e soprattutto quelli ambientali poteva essere un elemento di grande novità da portare nel territorio del bellunese. a tutti i settori produttivi e anche a tutti i settori produttivi